Allora, stavo giocando a Ultra Sole in questi giorni, no? Poi mi si è scaricato il DS, non trovavo il caricatore e mi sono ricordato che da un po' che non vi facciamo vedere, insomma, i giochi quelli veri, no? Quelli, insomma, quelli lì belli che tutti vogliono quei giochi da cui il Nintendo, volevo dire Game Freak, prende spunto per fare i loro giochi, giusto? Quelli che vengono tenuti nella cassaforte con scritto non aprire Sì, più o meno quelli E quindi stavo pensando, perché non mostrarvi la migliore accelerazione stanza di questo pianeta Ovvero, Pokébots versione beta Perché, sapete, è ancora in beta Porco, che cazzo è quello? Ma quello lì è il dottore Eggman invecchiato? Hola! No, aspetta, questo è un akspagnooo Tanto non traduco Io sono un'ombra Un'ombra col caschetto Mi chiamerò Mi chiamo Va bene Anche quello Il mio rivale si chiamerà, ovviamente Viii Allora Ma siamo sicuri che non sia uscito da Telefang Sto coso E' un ripafo di Pokémon Grape Ciao mamma sto andando a guidare Robotoni Abbiamo un robotone Side 7 Noah Va bene ma Cosa sono quelle cose Vediamo gli starter Questo è E' un evadirei Non si depisce un cazzo Ah l'ho letto dopo RX78 Questo qui l'ha prodotto sicuramente a MD Mazinga Voglio Mazinga Mazinga vai E lo chiamo Perché mi sembra Pacaman con le antenne Supa Perché è Supa Mazinga Ok tizio E' ora di farci valere Ma quello lì Com'è che si chiama il cattivo Quello di Buzz Lightyear Zurg Ecco lui E' perché il nostro sprite Ci sta guardando Cosa Pugno Rocket E via Diciamo che non aveva voglia di Sostitu Cosa è questo stupo Ma veramente A me Aia Hai un repair kit Scusa Sì ma fa male Pugno Abbiamo vinto Siamo forti Non è vero Ok Vediamo cosa si trova Ma aspetta Ma non c'era Nei E' uno starter Servatico Molto bello Va bene mamma Tu dammi la pozione Ancora C'è leva che ha protezione Perché è Lady Field No Ha Ha Facciamo che no Tokyo 3 Eh questa è l'Evangelion Però Che bellezze Eh vedi che c'è palestra Adesso è Gendo La Troia vuol farmi un panino No è un E' Neger Z Non è Mazinger E' così diverso Ma prima detto Mazinger Eeeh Vabbè ok Che cosa succede Questo gioco è molto bello E' innovativo Soprattutto nelle mappe Voglio vedere cosa si trova nel bordo Cosa è con lo sgorbio R Se vuole è al 10 Perché si Adesso ho paura Ma è quello di prima E' Zurg Aspetta Ma questo qui è Zork Perché? C'ha Una testa che gli esce dal Dal corpo Ehm Guarda Ehm La testa Zork usciva da Non dirlo Vaffanculo Che cazzo è Ehm 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 Fatti Sarebbe Ripatti dal Super Robot Wars Hai ottenuto missili Missili Perché c'è dell'erba qua? Ehm Troverai qualche poco È un stupido Vediamo Questo non ho idea di che cazzo sia Sempre Gundam credo Cosa? Questo lo voglio No Nooo Eh ma lo dovevo Può indebolire no? Lancia addirittura Chi se ne frega Haroball Ok Non l'ho preso Non l'ho preso Ok Eh Roboreale Giustamente Come lo chiami In 9-11? No Si chiama Roboreale Perché Smetti in caso Che qualcuno pensi Che sia finto Eh lo chiamo Glug Non ho idea Mi sembra giusto Cos'è? Ma va fan Yeah Ho imparato una mossa Che non so cosa sia Prest fa Cioè praticamente apre il petto E lancia il fuoco Cos'è un riservimento sessuale? Ma è femmina o maschio? Non lo so Eh ma Non no No eh Andiamo a battere Brock con Con la benda sull'occhio Perché è cattivo no? E certo Non ho visto il Smettere di schippare Lo scopo è uscito da Xero per caso? No Sono forte Ah Questo è di Gundam Questo è di Gundam Mi sembra Si ma Lo sprite Per l'amore del cielo Sembra la fusione tra Goku e Sasuke Allora Siccome è Natale Quasi Dobbiamo dare un consiglio Ai bambini Che ci seguono Giusto? Si Ok Paco inizia tu Sparateci Mi raccomando La pizza con l'ananas E' cattiva E' anche quella con il ketchup Esiste la pizza Esiste la pizza con il ketchup Si Oh mio Dios Adiós Adiós Mi raccomando